segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te sui giornali sulle televisioni russe si è parlato di questo è un'informazione che a voi è arrivata oppure no è una curiosità sì sì l'informazione è arrivata mi parli marisio sono in un bell'articolo sul correre della sera posso confermare le fonti che cita anche lui effettivamente però posso anche dire che con passare delle ore dei giorni la notizia ha assunto un'importanza sempre minore insomma a meno la mia sensazione è questa per cui c'è quella parte dell'obinione pubblica che come dicevo è critica e quindi magari vede il gesto di Salvini come un gesto magari di debolezza e c'è quella filogovernativa che comunque in ultima analisi vede che si tratta di un'operazione per certi versi solitaria che non può avere una uccisilità per cui da entrambe le parti poi alla fine viene valutata come qualcosa di poco significativo questo lo dico proprio col passare delle ore dei giorni se ne è